Sciabolare non è difficile, basta seguire 5 semplici regole. 1. La bottiglia deve essere quella classica, da spumante. 2. La bottiglia va opportunamente raffreddata, tenendola almeno 12 ore a 6 gradi per far perdere l'elasticità al vetro. 3. Svestire completamente la parte superiore della bottiglia. 4. Spostare la gabbietta dall'anello inferiore a quello superiore, tecnicamente chiamate baga, richiudendola in corrispondenza di una delle due linee lasciate dallo stampo. 5. Far scorrere decisi, ma con leggerezza lasciamola lungo la linea.